il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che rischia così passano gli anni ma otto sono lunghi però quel ragazzo le ha fatta di strada ma non si scorda la sua prima casa ora coi soldi lui può comprarla torna e non trova gli amici che aveva solo case su case che attrame il cemento là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà buonasera Grazie a tutti!